La percentuale di segnalazioni all'Agenzia delle Entrate pare abbastanza alta. Ciò significa che molte persone morose del progetto case non hanno ancora ottemperato i pagamenti degli utenze, come richiesto dal Comune, che deve recuperare somme anche ingenti. In arrivo altre bollette e il Comune, se tutto andrà nei piani, dovrebbe incassare un milione di euro. Le bollette inviate sono relative al quarto trimestre 2023. Nella determina comunale appena pubblicata sull'albopretorio, si ricorda che il Comune è proprietario di ben 19 insediamenti del piano case e di 23 MAP. In questi insediamenti tutte le utenze relative alla fornitura di elettricità delle parti centrali e condominali sono intestate al Comune. Nel 2010 fu approvato anche il regolamento del progetto case dei MAP. Nel marzo 2015 fu stabilito invece il nuovo canone concessorio per gli assegnatari, che è composto da canone di locazione e canone di comparticipazione per le spese condominali. Questo canone, stabilito in ragione dei metri quadri dell'alloggio, va di fatto a finanziare i consumi dell'energia elettrica. Il Comune, già con avvisi precedenti, aveva inviato dei solleciti amorosi, ma la situazione reale è che molti ancora non si mettono in regola e per questo dalla lettera si passa all'intervento dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente l'assessore competente Vito Colonna ha sempre precisato che non si tratta di nessun accanimento nei confronti delle famiglie, ma certamente il Comune deve riavere le somme per non incappare lui stesso in un problema. Per i nuclei familiari in difficoltà, peraltro, già ci sono degli strumenti che l'ente utilizza per venire incontro a bisogni e necessità.